Festa rinviata, Pescara costrette play-off per l'impresa del Portoguaro a Verona. Inutile la vittoria per 3-2 contro un Marcianise che non aveva più nulla da chiedere a questo torneo e che da martedì inizierà a pensare al dopo bizzarro. Progredi tour praticamente esaurito grazie anche agli oltre 3.000 tifosi abruzzesi che hanno seguito la squadra con la speranza di festeggiare la B. Boccolini dà spazio a Gigi Tapice che nell'ultima dell'anno indossa anche la fascia di capitano. Silve de Tetesco al posto dello squalificato Poziello. Gran caldo in campo ma i tre punti sono di fondamentale importanza per gli ospiti. Dopo tre minuti, primo tentativo di Tedesco che trova però la pronta risposta di Pinna. Al primo affondo i delfini passano. Ganci va al cross dalla destra, Soddimo si avvende sulla sfera anticipando Porpora e sorprendendo un incerto Fumagalli. Ireal ci mette un po' per riprendersi. Al diciannomesimo D'Ambrosio lascia partire una conclusione da fuori ma si perde alta. A sorpresa ecco l'1-1 di Tedesco che raccoglie un traversone di Manco e di testa non sbaglia. Decimo centro stagionale e obiettivo personale raggiunto. Minuto 36, ancora Ganci a proporre, ancora Soddimo a concludere. Tiro, sbilenco e sfera largo su fondo. Replica gialloverde con Tomi che su punizione spaventa Pinna. Il match vive di momenti e al 42esimo tocca al Pescara con Tognozzi che incorna ma spedisce in curva. 60 secondi dopo palo di Ganci e conclusioni da fuori di dettori bloccata a terra dal portiere. Un solo minuto di recupero poi tutti negli spogliatori a rinfrancarsi. I biancazzurri tornano in campo più motivati e al terzo mettono di nuovo la testa avanti con Ganci che ringrazia l'allegra difesa avversaria e in fiammi i propri tifosi. E per poco Soddimo non triplica da due passi, spara addosso a Fumagalli e occasione persa. Boccolini fa esordire Sorrentino che rileva Romano mentre Manco lascia il posto ad Alvino. Dentro anche Zizzeri per Gessa. Il no entrato al 23esimo si ritrova tutto solo davanti a Fumagalli che però gli nega la gioia del gol. Il bomber si rifà alla mezz'ora quando chiude i giochi spedendo il Pescara verso la B. I campani non riesgiscono, per gli avversari inizia il conto alla rovescia. La rete di Bocalonna a Verona gera i ragazzi di Francesco che subiscono la rete di Galizia che vale il 2-3. 4 minuti di attesa dal Bente Godi non arrivano notizie e Pescara con strette playoff. La stagione del Real finisce comunque tra gli applausi perché i gialloverdi il loro campionato lo avevano già vinto.